La casa funeraria Costantini, l'unica nel centro-sud Italia, si trova a Popoli ed è nata per dare un servizio confortevole e di assoluta privacy. Professionalità, accoglienza e discrezione sono i principi guida che rendono casa Costantini il luogo ideale dove custodire e vegliare il compianto fino al momento delle sequie. Non solo una valida alternativa alle fredde camere mortuari e degli ospedali o dei cimiteri, ma una vera e propria struttura d'eccellenza in cui celebrare l'ultimo saluto sentendosi a proprio agio come a casa. Il tempo per le onoranze funebri Costantini assume un valore fondamentale, per questo assiste completamente nell'organizzazione della cerimonia e nelle incombenze che seguono queste delicate circostanze. Discrezione è la parola d'ordine della famiglia Costantini, che ha creato la casa funeraria con stanze e ambienti separati. Tutti i servizi sono a disposizione nel medesimo edificio senza che interferiscano con la delicatezza del momento. Disponibilità di spazi di accoglienza comune, ampi ed eleganti, ideali per ospitare le famiglie e i loro amici e di una sala limitrofa dove sono esposti i servizi a disposizione. L'Agenzia Costantini è in grado di fornire un vasto assortimento di prodotti funerari di qualità, supportandovi nella scelta più consona alle vostre esigenze. L'Agenzia di onoranze funebri Costantini, da 40 anni nel settore, offre sempre le risposte più efficienti alla propria clientela e dispone di personale attento e professionale che con discrezione supporta la famiglia durante l'organizzazione del funerale.